Ciao a tutti ragazzi e bentornati a questo mio canale, qui nel Velox oggi sono qui ragazzi per portarvi un nuovo video su World War 2 ragazzi, un nuovo random live che non è per un video diciamo incentrato sul gameplay, mirato a fare un bel gameplay o altro ma è un video per parlarvi di qualcosa voglio parlarvi ragazzi oggi di un'arma così come ho fatto negli ultimi video non video usciti ieri o avanti ieri, comunque usciti qualche giorno fa riguarda appunto la nuova patch rilasciata su World War 2 nei precedenti video vi ho parlato dell'FG42 e dell'MP40 se ben vi ricordate e oggi vi parlo invece del Thompson ragazzi che è l'ultima arma che è stata effettivamente modificata da questa patch perché le armi in questione modificate durante questa patch sono appunto 3 e questa è l'ultima di cui andiamo a parlare ragazzi il Thompson è stato potenziato in poche parole è stato potenziato e per molti questo potenziamento non è una cosa da poco nel senso è un potenziamento veramente consistente nel senso che cambia veramente tanto quello che è poi il risultato finale dell'arma nel dettaglio non hanno spiegato bene cosa è cambiato perché le patch notes che sarebbero praticamente le note che parlano della patch quindi spiegano nel dettaglio cosa è stato cambiato all'interno del gioco parlano di di Thompson buffato buffato o baffato non ho mai capito bene la pronuncia che vorrebbe dire semplicemente potenziato nel dettaglio parlano di rateo di fuoco insomma è stato potenziato il rateo di fuoco ma senza spiegare oltre cioè non è stato spiegato se a livello di velocità se è stato se spara più veloce l'arma non si capisce sinceramente ho chiesto anche in giro a tante tante persone perché effettivamente volevo avere le idee chiare riguardo a questa patch qua cioè volevo capire cosa fosse cambiato ma nessuno è stato capace di darmi delle come si può dire delle indicazioni esatte anzi molti piuttosto mi hanno detto che l'unica cosa che sembra essere cambiato in quest'arma è il controllo nel senso sembra essere diventata molto ma molto più controllabile e sinceramente se devo essere sincero sono d'accordo con loro perché usando quest'arma io stesso l'unica cosa che è noto di diverso rispetto alla versione precedente è appunto il controllo dell'arma quando spara cioè prima era veramente difficile da controllare il rinculo era veramente molto molto esuberante e rendeva l'arma praticamente difficile da utilizzare veramente molto difficile da utilizzare ve lo dissi anche in un video tranne da brevi distanze a brevi distanze era veramente molto facile adesso invece risulta utilizzabile anche diciamo da medie distanze non proprio solo da vicino chiaramente non è che puoi fare i long shot però puoi diciamo fare comunque kill discrete anche da distanze un po' più più consistenti ecco e questa è una cosa veramente figa perché di fatto wow vabbè ho smirato io ragazzi non è che ha rincolato l'arma di fatto ti permette di utilizzare l'arma in molte più situazioni e le da diciamo questo aspetto più sicuro insomma le conferisce un po' più di sicurezza e quando tu la utilizzi diciamo ti senti meno meno rischio morte quando ti ritrovi magari uno spazio un po' più aperto ecco diciamo che ripeto le patch notes parlano di potenziamento del ratio di fuoco però il ratio di fuoco sembra uguale o comunque se è migliorato si parla veramente di poco l'unica cosa che ripeto si nota è appunto questo controllo dell'arma che è quasi innegabile nel senso c'è chiunque abbia usato almeno una volta quest'arma avrà notato adesso che l'arma è molto molto più controllabile nel senso c'è patch notes o meno quando tu la prendi in mano ti rendi conto che l'arma è molto molto più non dico precisa ma più controllabile precisa è un termine sbagliato è più controllabile cioè quando spari riesci a tenerla più sulla cioè riesci a tenere il mirino più sull'avversario quindi risulta più facile sparare da distanze che non siano il metro il metro ecco quindi non lo so ragazzi esattamente non so veramente dirvi nello specifico perché i sviluppatori non hanno non sono scesi nel dettaglio posso solamente dirvi che è stata potenziata appunto a parere mio a livello di controllo e che vi consiglio di utilizzarla perché è veramente veramente molto forte è diventata ripeto molto più più versatile nel senso ripeto non è versatile come altre altre mitragliete tipo il ppsh o un mp40 ma risulta comunque molto più versatile rispetto a prima quindi se vi piacciono queste mitragliete ecco potete mitragliete di questo tipo con un bel rato di fuoco potete iniziare ecco a utilizzarla senza problemi molti l'hanno addirittura paragonata alla scorpion di black ops 2 ecco in effetti il rato di fuoco ricorda molto anche il modo in cui l'arma si alza al momento molti tra cui anche il player più forte del mondo comunque il player più famoso ovvero scampi ha fatto anche un video riguardo appunto paragonava quest'arma alla scorpion di black ops 2 ecco arma fortissima se avete giocato a bio 2 lo saprete che i pro player stessi utilizzavano ecco anche se non ricordo male poi venne bannata a un certo punto però comunque insomma a parte questo qua era un'arma veramente molto molto forte quindi io sinceramente vi consiglio di provarla raga provatela e fatemi sapere nei commenti se la pensate come me ovvero se notate che l'arma si è diventata molto più facile da utilizzare ma vaffanculo più facile da utilizzare più controllabile anche più bella da utilizzare perché chiaramente se l'arma è più facile da utilizzare risulta anche più più scialla come cosa no? cioè tu la utilizzi senza problemi mentre al contrario quando l'arma ha un rinculo esagerato difficile da utilizzare ti viene da bestemmiare certe volte no? prima quest'arma era bella lo stesso però cazzo certe volte era incredibile tra l'altro sembra quasi che abbiano modificato anche l'ipfire nel senso sembrano molto più vicine le crocettine quando si spara in ipfire tanto che ho visto anche diverse clip di player che ammazzano gente da distanze chilometriche sparando in ipfire effettivamente può essere ragazzi comunque provatela anche voi fatemi sapere cosa ne pensate raga vi invito a lasciare un bel like e niente ci becchiamo al prossimo video un bel abbraccione e buone feste e ci becchiamo domani bella a Grazie a tutti.